Noi tutti sogniamo. Sono i sogni che ci fanno alzare ogni mattina, andare a lavorare, apprendere, a cercare di creare qualcosa di grande per noi e per il mondo. E quando il mondo inaspettatamente, tragicamente, si ferma, i sogni sono i primi a soffrire. Vorremmo dedicare questo piccolo momento di musica a voi e ai vostri sogni, perché come Totò, il protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, possiate non smettere mai, mai di sognare, specialmente adesso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.